Ehi là cari miei, cari cari miei, cari mie e compagnia bella, beh siamo nel 2017, diciamocelo chiaramente, iniziamo in maniera molto shue shue questo primo video dell'anno perché ci sono alcune cosine che vorrei dirvi. Una di queste cosine che vorrei dirvi è che io continuo in qualche modo a rimanere nel loop dei malamni invernali. Quindi purtroppo non riesco ad uscirne, ne esco e ne rientro alla velocità della luce, quindi adesso sono in cura con alcuni farmaci, uno dei quali è anche il cortisone, per cui è probabile che mi vediate, diciamo, lievitato. Ecco, questo è dettato sicuramente dalle feste natalizie dove io non ho avuto alcun tipo di limite, ma anche appunto da questo supporto negativo delle medicine che io non amo moltissimo, ma che purtroppo, ragazzi miei, purché facciano effetto. Non lo so, speriamo di uscirne, ecco, perché casco e... esco e casco, esco e scaschi, 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 starsi e indaccio, insomma, dalla febbre e quindi di conseguenza. Però, siccome oggi è 2 gennaio, sì che non ho ancora messo da nessuna parte il nuovo calendario, sì che comunque non ci si vede, non ci si sente da un po', volevo tornare a voi, facendovi intanto gli auguri per questo nuovo anno, che sia un anno effettivamente pieno di cose, ecco. Poi che siano cose belle, cose brutte, certo, ognuno ci spera, no, che la bilancia penda più da una parte rispetto che dall'altra, ma che sia comunque pieno, ecco, che sia pieno di cose che poi si potranno raccontare, perché tanto diciamoci la verità, gli amori, le uscite, le scene, le cose, sono belle perché si possono raccontare, perché poi si può chiamare un amico, perché poi si può cercare di dire a qualcun altro, sai che mi è successo? Insomma, diciamocelo chiaramente. Sì, è bello viverle lì per lì, però poi il racconto aggiunge quel qualcosa in più che ce le fa gustare ancora meglio. Perché sono qui oggi? Potevo trovare una scusa qualunque per tornare a voi, perché sono diversi i video che ho in programma di fare. Però questo video ci tenevo particolarmente a farlo, lo avrete visto anche dal titolo, è un po' un video spartiacque tra l'anno 2016 e l'anno 2017, non tanto perché rappresenti chissà quale novità. D'altronde, ragazzi miei, io mi sto mostrando a voi esattamente come sto in questo momento, quindi in pigiama, con le guance rossissime, non so se ho di nuovo la febbre perché non ho un termometro, ma fortunatamente ho spedito Gwendalina in avanscoperta e probabilmente tornerà col termometro. Insomma, ragazzi, insomma, io volevo iniziare l'anno con, sapete, il botto di quelli, no? Anche perché metti che io penso, dico, ma forse qualcuno, sai, mi ha trovato un po', si è un po' invaghito, metti un qualcuno lontano che mi ha come, non so, sogno erotico, e mi vede dalla Papuazia, mi vede così, dice, ragazzi miei è meglio che chiudiamo bottega. E nel caso, dear, my friend, my lovely, lovely person, sorry, e così stanno le cose. Allora, facciamo uno stoppettino e partiamo con questo, tra l'altro, nuovo, non so, qui questo come lo chiama, quaderno, semplicemente, meraviglioso, che mi è stato regalato per Natale da una cara ragazza, con la quale io ho fatto dei turni in biblioteca, che probabilmente lo vedrà anche questo video, la saluto, Francesca, ciao, è stata meravigliosa, carinissima, guardate, ecco, questi sono i colori che sarebbe bello avere a portata di mano in questo 2017. Per ora ce li ho solo sul quaderno, poi vediamo che cosa succederà. Allora, facciamo così. Allora, io ho preso degli appuntini per cercare di mettere dei punti su quelli che sono stati alcuni momenti, ma non è detto che bisogna vederli tutti, insomma, vediamo dove mi porteranno le chiacchiere. Alcuni momenti del 2016 che mi hanno particolarmente, diciamo che lo hanno particolarmente segnato e che però, in un modo o nell'altro, è bene anche che vengano messi un po' da parte. Il primo di questi è sicuramente quello della casa. Io nel 2016 ho cambiato casa, voi c'eravate, eravate insieme a me, alcuni sì, altri no, però alcuni erano insieme a me e quindi avete vissuto il cambiamento della casa. Questo nel 2016 è stato per me un passo estremamente importante. Cambiare casa, ritrovare in un appartamento quella serenità, quell'appropriazione degli spazi, quella possibilità di sentire anche un po' più proprio lo spazio che si vive, sicuramente è stato per me un passo avanti, molto importante, molto significativo, che mi ha poi permesso anche di avere con voi, con tutti voi, con noi, insomma, in questo piccolo mondo, anche un rapporto diverso perché non crediate che lo spazio all'interno del quale i video vengono girati non sia importante. Uno può girarli in mezzo al bordello cosmico più grande e l'ho fatto, ma avere dei momenti di pace per potersi relazionare non è una cosa molto comune. Il lavoro in biblioteca e il tirocinio. Vabbè, si sarà interrotto perché è arrivata una telefonata. Dicevo, la biblioteca e il tirocinio sono stati due momenti nel 2016 per me molto importanti perché ho iniziato a, insomma, non che prima non avessi mai avuto opportunità, ma insomma, sono tornato a lavorare in pubblico e questo per me è stato molto significativo, soprattutto tornare a lavorare in pubblico avendo a che fare con i libri. Ecco, questa è una cosa particolarmente importante per me. Poi che siano libri universitari, quindi forse un po' più distanti dagli interessi di tutti, no? Un po' più obbligati, non si tratta di romanzi, eccetera, però effettivamente è stata una cosa importante. E il tirocinio alla Onlus del quale, tirocinio, io vi parlerò in maniera approfondita. Poi arriveremo anche a YouTube a tutto quello che, insomma, c'è da fare ed è stato fatto, perché ci tengo, sapete, un po' quei punti delle situazioni, un po' per ammorbarvi i coglioni, un po' per passare insieme qualche tempo, sia insieme a voi che ai vostri coglioni. Punto positivo del 2016, scoperta positiva del 2016, della fine del 2016, Netflix. Ragazzi, ci sono cascato, è inutile che ci giriamo intorno, ci sono cascato perché? Perché Netflix sa benissimo che regalandoti un mese di, insomma, possibilità gratuita di usufruire del servizio, tu non andrai via da Netflix, perché il costo è limitato, perché è chiaro che 5 euro al mese, in questo caso, perché gli schermi che noi utilizziamo in casa sono due, quindi più o meno il costo è di 5 euro a testa al mese, insomma, si può fare in un'ottica dell'abbandono, perdonate la luce che si alterna, ma oggi è un po' nuvoloso, non so se accendendo questo è meglio, però, vabbè, ce la vediamo. Insomma, alternare un po', non mi ricordo che stavo dicendo, comunque Netflix, Netflix è stato, e poi ne parleremo anche perché ci sono alcune serie su Netflix, però io l'ho ancora scoperto poco, mi piace però l'idea, ecco, tornando al discorso dell'alternare che non c'entrava niente, di lasciar perdere finalmente i siti di streaming, anche se ovviamente le serie che seguo non sono tutte lì, ma di doverlo cercare, cercare in qualche modo le pubblicità, non riuscivo mai a trovare niente, mi ritrovavo in 1500 siti pseudopornografici senza, ma che per carità, eh, cioè, per carità di Dio, però ognuno ha i suoi, insomma, capite bene, creava dei problemi, 2016, tesi, tesi, insomma, è inutile che io ne stia qui a parlare perché anche questo richiederà un video approfondito, ma iniziare a scrivere la tesi sarà un momento, cioè, è stato un momento, io non l'ho iniziata a dire la verità, è iniziata la raccolta delle informazioni, adesso tra gennaio e febbraio bisognerà portare a termine questo primo capitolo, per cui la tesi rappresenta effettivamente un forte momento di passaggio dall'anno nuovo, cioè, dall'anno vecchio all'anno nuovo. Giochi sul telefono, sì, il 2016 è stato l'anno dei giochi sul telefono, ho scoperto, disgraziatamente, non possedendo io, un computer che mi permetta di installare giochi stratosferici, una qualunque console, dal Nintendo alla Wii, alla PlayStation 2700, che mi permetta di svagarmi un po', da questo punto di vista tecnologico, ho riscoperto i giochi sul telefono, ne ho installati i 750, da i più spudorati, Candy Crash, Soda, Saga, Jelly e compagnia cantante, fino ad altri di cucina, in cui devi cucinare dei piatti, Cooking Fever, insomma, è stato l'anno dei giochi sul telefono, è stato l'anno dei pochi libri, il 2016, rispetto ad anni precedenti, rispetto allo stesso 2015, ho letto una trentina, una quarantina di libri in meno, questo lo so perché, perché io tendo a scrivermi i libri che leggo, e quindi, questo 2016, è stato un anno povero, se vogliamo, di libri, certo, non che io ne abbia letti due o tre, ecco, comunque, avrò letto in un anno una trentina, quarantina di libri, pochi rispetto al mio standard, ma più che sufficienti rispetto agli impegni che questo 2016 mi ha portato, che come vi ho già avuto modo di dire in altri video, adesso non vi riammorberò, sono stati particolarmente difficili, è stato l'anno delle tragedie il 2016, tragedie musicali, tragedie politiche, tragedie morti, celebri, disastri ancora più celebri, ma anche questioni personali non propriamente felici, un lutto prima di Natale, insomma, voi lo sapete bene, di, insomma, il fatto che il mio cagnolino sia passato, diciamo così, a vita diversa, non so se è migliore, ma diversa, non so dove, quindi l'anno delle tragedie personali e mondiali che hanno sicuramente coinvolto moltissimo tutto l'Ambaradam, e questo il 2016, adesso diamo un'occhiata al 2017, ve lo giuro rapidamente, perché mi pare di avervi già ammorbati, oh, allora, vediamo un po' questo 2017, vediamo un po' che cosa ho scritto, punto primo, libri, ecco, quindi la speranza di riuscire a leggere un po' di più, io sinceramente, vi dico la sincera verità, non mi piace l'idea di, come dire, non mi piacciono i lettori compulsivi, ecco, non mi piace chi per avere dei grossi numeri da sfoggiare a fine anno, ma poi sfoggiare con chi, perché, voglio dire, i libri, sono qualcosa di particolarmente, particolarmente interiore, particolarmente personale, andare in giro a dire, ho letto 200 libri, non fa di te un latin lover, non fa di te uno stallone, non è come andare in giro a dire, non lo so, ho 40 centimetri, cioè, capite, nel senso, non se ne frega niente nessuno dei libri, è una cosa personale, però l'idea di aver letto pochi libri mi lascia un po' così, perché? Perché sono entrato in pochi mondi, ho affrontato poche sfide nuove, sono stato poco fuori di casa, ecco, che poi sono ciò che i libri rappresentano, la possibilità di uscire, di vivere altre vite, di andare in altri mondi, di entrare in altre case, quindi leggere pochi libri, per me è negativo per questo, ecco, non perché non si possa dire al mondo, oh sai, ho letto 200 libri, anche perché, insomma, ma proprio l'idea di essersi allontanati poco dalla routine, e questo fa capire quanto siano state pesanti le giornate, perché se io leggo poco, vuol dire che la giornata è stata pesante, e mi conosco e so come va. 2017, YouTube, Allora ragazzi, qui ci sarebbe da fare un discorso lunghissimo, perché, diciamocelo chiaramente, io non sono riuscito negli ultimi periodi ad essere costante, non perché non avessi niente da dire, non perché non avessi suggerimenti anche esterni da poter utilizzare in caso di mancanza di idee che comunque vi assicuro non c'è, perché le cose da dire sono sempre tante, sono stato poco costante, sono stato poco presente a livello di video, e questo mi ha portato a accumulare una serie di questioni che inevitabilmente adesso risultano un po' datate, insomma, gente che mi ha tirato in ballo dei mesi fa, addirittura, domande che, insomma, io vorrei, nel 2017, voi lo sapete bene, io non sono uno di quelli che vuole rendere ufficiale le cose, cioè, in che senso, perdonatemi, uso dell'italiano un po' così, non vi dirò mai, ragazzi, ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 18 vi pubblico il video, per chi a me sta cosa mi sa di gabbia, capite, mi inizio proprio a sentire stretto, qui saranno le tonsille che si gonfiano, ma in linea di massima inizio a sentirmi stretto, per cui non vi dirò mai una cosa del genere, quello che però vorrei cercare di dirvi è che tenterò di avere un minimo, un minimo di presenza e di costanza in più per fare in modo che non passi davvero così tanto tempo tra un video e l'altro, però ragazzi, io ho sempre avuto questa sensazione di annoiare, in qualche modo di rompere un po', ecco, non so, facendo uscire un video ogni due giorni, forse dall'altro lato c'è anche un po' di noia, c'è anche un po' di, oddio che palle, e poi mi dispiacerebbe se si smette, cioè se non ci fosse più questo collegamento invece tra di noi, come dire, oculato, ma sempre florido, sempre ricco, insomma sappiatemi dire, comunque vorrei che fosse un anno di cambiamenti anche su YouTube, non fosse altro, perché devo andarmi a recuperare tutti i vecchi video in cui non c'è un'immagine di anteprima, perché all'epoca non li mettevo, non li potevo mettere, e mettercela, perché ci sono alcuni video vecchi con delle mie facce in condizioni pietose. Scrittura, mi piacerebbe che questo 2017, guarda qui il tempo, mi piacerebbe che questo 2017 fosse un anno con più scrittura, in cui io, cioè, finalmente cercasse di scrivere, questo cercassi, un anno in cui io, mi piacerebbe, no, allora questa forse va rifatta, mi piacerebbe che fosse un anno in cui la scrittura ritorni, finalmente ad avere un ruolo un po' più centrale, vorrei finire alcuni progetti che mi trascino dietro da decenni, vorrei cercare di mettere la parola a fine ad alcune questioni che se non vengono concluse, non vengono terminate, non possono neanche, non dico, vedere la luce ma neanche ricevere un parere, quindi mi piacerebbe tanto che la scrittura fosse un po' più padrona del mio tempo, vorrei anche abbassare questo perché mi piacerebbe che mi si vedesse un po' di più, non che vi perdiate chissà cosa, vabbè, niente, i miei weekend, questo è importante per me e probabilmente lo sarà, certo non sarà importante per voi, però vi potrebbe riguardare, vorrei tanto che il 2017 fosse un anno in cui io, compatibilmente con la disponibilità economica, compatibilmente con gli spostamenti, compatibilmente con gli impegni, però vorrei raggiungere, fare dei piccoli weekend conoscitivi in giro per l'Italia, ci sono tante città italiane che io non ho mai visto, che non ho mai raggiunto, che mi incuriosiscono da morire, regioni che ho intenzione di scoprire, come la Sardegna, come la Sicilia, come il Molise, come le Marche, cioè ci sono veramente tante tante regioni, per non parlare del nord che conosco pochissimo perché non sono mai salito sopra Bologna, che ho voglia di vedere, ho voglia di conoscere, ho voglia di respirare un po', per riappropriarmi un po' delle città italiane, dove c'è tanta bellezza dai borghi piccini alle grandi città e dove mi sembra veramente assurdo non vedere e non conoscere per una questione di pigrizia, nonché economica, però, però, magari organizzandosi per tempo e sarebbe bello se riuscissimo a farli insieme questi weekend vado avanti un po' più velocemente per il 2017 voglio prendere appunti, voglio prendere appunti perché io sono uno che non prende appunti pur scrivendo molto ed utilizzando molto le agende non prendo gli appunti necessari quando sono in giro e così facendo perdo delle idee che potrebbero essere interessanti dalla scrittura alla alla registrazione dei video a tutta una serie di di questioni futuro il 2017 sarà l'anno del futuro perché perché se si dovesse concludere il mio percorso universitario quindi se la tesi dovesse bla 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 sarà un anno di scelte anche importanti per ciò che riguarderà il dopo quindi è un anno effettivamente abbastanza significativo quello che mi attende chissà chissà mi piacerà sono curioso ecco di sapere che cosa succederà 2017 sarà l'anno in cui io strizzerò l'occhio ma forse strizzerò solamente l'occhio ad un possibile compagno mio pelosino ecco che non sia un peluche ma sia un cagnolino perché ho voglia di di ributtarmi in un'avventura e di riviverla in prima persona però i tempi certamente non saranno questi quindi ve ne ho parlato così è in passant fate finta di niente però lo inserisco nel calderone e alla fine ecco c'è la questione insomma di una maggior presenza di una maggior costanza io spero solamente che nel 2017 ci possa essere come sempre una comunicazione forte mia nei confronti del mondo e del mondo nei miei stessi confronti cioè che ci sia sempre uno scambio maggiore sempre uno scambio più forte sempre uno scambio più più fitto più frequente perché scambiarsi informazioni scambiarsi sensazioni è l'unico modo per non rimanere da soli ragazzi il 2017 è qui oggi è 2 gennaio è iniziato io l'addio al vecchio e l'avvio del nuovo l'ho dato con questo video vi ho anche insomma raggiunti sulla pagina facebook ma lì non ci siete tutti allora io vi bacio ovunque voi vogliate perché l'anno va iniziato con un pizzico di brio cioè non è che vi posso dare un bacio sulla fronte come la vecchia zia insomma quindi vi bacio ovunque voi vogliate fatemi sapere in cosa voi volete tuffarvi in questo 2017 cosa vi aspettate una cosina esprimiamo tutti insieme un desiderio insomma io come sempre vi aspetto fate un po' come vi pare l'importante è stare insieme spengo la luce c'è una cosa importante che non vi ho detto e che è accaduta è accaduta ieri proprio nel passaggio dal 2016 al 2017 non ve la dico ancora perché non è sicura però però può darsi che già nel prossimo video se qualche giorno sarà passato e la situazione sarà un po' più stabile può darsi che io vi renda partecipi di questa cosa non diciamo niente per il momento però c'è ragazzi vi abbraccio grazie per avermi sopportato in queste condizioni vi abbraccio tutti quanti e ci vediamo prestissimo perdonate la lunghezza ma dopo tanto è come l'astinenza no? ecco attenzione a questa parola pensateci grazie a tutti grazie a tutti